Ciao, 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 mamma che piacere conoscerti, finalmente, piacere ma studiare. Piacere, Deborah, tutto bene? Tutto bene, il sole è un pochino caldo, viaggio è andato abbastanza bene, un po' traffidato, un po' classico, un po' di due personcine, come mai personcine è dovuto definire? Ma personcine perché l'idea di animare un uccellino è un pochino piatta, per cui personcine perché me li allevo, me li puro, me li nutro, passo tanto tempo con loro e quindi hanno un valore affettivo. Non indifferente, eh? Noi sono curiosi, simpatici e ogni tanto mi danno qualche soddisfatto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.